Cicero non ha mai nascosto quello che è, quindi nel bene e nel male Cicero è quello. Quindi noi l'abbiamo molto criticato per molte iniziative, tipo tutto un colpo far apparire quelle barriere che magari potevano essere buone ma non sono state condivise in Piazza Castello, ha tolto muretti, ha fatto tante cose di testa sua. Li abbiamo criticato ma lui è quella cosa lì, lui Cicero nel bene e nel male è Cicero. Te devo dire che una cosa l'ha fatta buona e l'abbiamo promossa e che è stata l'ultima che ha fatto, quello il PEBA, per esempio il piano sulle barriere architettoniche, quello è stato da 8, da 8 e mezzo, da 9 forse, perché l'ha fatto dopo tanti anni e quello per esempio gliel'abbiamo riconosciuto.